ArubaBank ha introdosito l'applicazione SecureLock Equip per la tarjeta di credito di ArubaBank. Prevenire fraude e controllare l'uso. Con SecureLock puoi creare un card fuori il tuo cellulare. Poi, puoi avere un'ora che vuole adessere. Puoi avere un'altra tarjeta di credito per il tuo account. Creare il proprio limite di uso per la tua tarjeta per prevenire maluso e fraude. Hai la mensagena di alerta na ora e ricevi notificazione qu'è tarjeta a guarda usa. Revisare la transaccia di buo tarjeta di credito facilmente fuori il tuo cellulare. Download buo app via Google Play of iStore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.